novena a san francesco d'assisi sesto giorno 30 settembre l'esempio di san francesco deve farci riflettere sulle necessità di mortificare i desideri del corpo affinché siano sempre subordinati alle esigenze dello spirito san francesco prega per noi padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta a fare le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti